ciao amici oggi è il 28 febbraio 2021 ultimo giorno già allo disposizione per andare a cercare che cosa i primi marzuoli e li abbiamo trovati eccoli qua primissimi dai sono ancora piccolini piccoli 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 sarebbe da lasciarli qua e verrebbero un po più grossi però visto che ormai non si potrà più venire per almeno 30 40 giorni cosa dici lucia direi di raccogliere ci facciamo una pasta asciuttina stasera direi proprio di sì prelibatezza prelibatezza dai marzuoli dormienti igropulus e come ripeto peccato sono piccoli guardate che belli che tesori bellissimi sono appena usciti la pasta asciuttina viene fuori cominciano a svegliarsi le fungaie ma che bello questa sono tutti belli bello adesso andiamo a vedere dei posticini dove batte un po il sole non è detto che ci sia ancora qualcosina qua non roviniamo niente che qua sotto ne vengono altri complimenti Mauro bravo ciao amici in buon casfugo sempre bravo Mauro prima uscita primo regalo ok ok grazie grazie